Com Girafni, la data è il 3 settembre, qualcosa sulla commedia, ingollosiamo il pubblico di Rossini TV. Diciamo che il Com Girafni è un'apologia del matrimonio, dalla proposta alla fine del matrimonio, ma sono quattro quadri nei quali dalla proposta si passa poi al vero e proprio matrimonio, una giornata infernale del matrimonio e poi la convivenza che non sempre è delle migliori. Quindi molto divertente, è scritto da Danilo Merloni e in doppia coppia insieme a Paolo Capelloni hanno curato la regia.